Allora io non ho fatto cosa non c'è Allora questa qua ne classifica Dove tu devi dire cosa ti dà fastidio che io faccio Capito? Vabbè Ti dà fastidio se io bacio Cos'è il culo? Che cazzo è? Vabbè ti dà fastidio se io bacio qualcuno Non lo so dove? Sì o no? Sì E dove lo metti? Allora al primo posto Vabbè Ti dà fastidio se schiacci i brufoli a qualcuno? Dove lo metti? Certo Me lo metti al settesimo me lo metti Ti dà fastidio se io sciacquo i capelli Ma che cazzo è di cosa sta? Se sciacquo i capelli a qualcuno? Dillo dove lo metti Numero 8 Ah Ottesimo Ti dà fastidio se io faccio Ma fammi parlare Ti dà fastidio se io faccio un massaggio ai piedi? A qualcuno? Come se sto? Sì, certo Perché non ti dà fastidio? Allora posso andare a fare il messaggio ai piedi degli uomini Non so che ho il cazzo che vado a fare il messaggio ai piedi lordi Ti dà fastidio se abbraccio qualcuno? In base a chi quindi mettiamo un quarto E poi tu saresti quello geloso Non ti preoccupare Che domani Maddalena Domani è la giornata di Maddalena domani Te la faccio ricordare io quanto è vero è Dio La giornata di Maddalena Domani è santa Maddalena Ti dà fastidio se io mi appoggio in braccio di sopra a qualcuno Così in questa posizione? È bellissima Ti dà fastidio se mi metto Un terzo posto È perché non c'è neanche un posto Tu guarda che sei un miserabile Ma se non c'è neanche un posto un momento Ti dà fastidio se io stringo la mano qualche d'una? Ma non posso Ti dà fastidio se io faccio questa a qualcuno? Le c'è neanche un posto perché lo sto facendo Che classifica del cazzo Ma appunto Comunque tu eri quello super geloso Quello così quello colà Hai messo tutto all'ultimo posto Ma vai all'altro Tu sei un vergognoso Tu sei un fottoso Tu sei un fottoso